Avvocato Toroggino, lei è il presidente dell'EMPA e insieme all'Ibis avete denunciato una situazione particolare e soprattutto che riguarda un animale, un cane. Sì, abbiamo denunciato un fatto increscioso che se dovesse essere confermata la dinamica per come ci è stata raccontata farebbe fare un salto a Crotone indietro di 40 anni almeno. A quando si venivano commessi atti criminali nei confronti degli animali, soprattutto nel periodo natalizio e con i botti di Capodanno. Speriamo che non sia andata per come ci è stata riferita, ovviamente ci siamo affidati alla magistratura e siamo certi che per la sensibilità che la Procura della Repubblica dimostra nei confronti degli animali farà chiarezza anche in breve tempo. Lei sta dicendo che comunque è successo qualcosa di strano perché questo cane poi è morto? Sì, queste sono le notizie che sono state diffuse e che la causa sarebbe proprio dovuta a un petardo lanciato addosso all'animale che gli avrebbe causato delle gravi emorragie. Poi se il cane sia stato investito dopo e in che termini, se la causa della morte sia stata effettivamente l'investimento oppure l'emorragia che ha subito, questo ce lo dirà soltanto un'autopsia che verrà sicuramente delegata dall'Ufficio di Procura a servizio veterinario. In quel momento avremo certezze sulla dinamica e sulla causa della morte. Fa un po' specie questa notizia per il semplice fatto che si parla sempre di vicinanza agli animali si chiama l'EMPA per poter portare quegli animali che si trovano, che sono animali randaggi, cani randaggi eccetera poi invece succedono fatti di questo genere. Lei ha ragione, stiamo facendo passi indietro. Fino ad adesso abbiamo registrato sempre avvelenamenti di cani, soprattutto nei paesi della provincia di Crotone dove il randaggismo è diffuso e in molti cercano di risolvere il problema diffondendo delle polpette avvelenate. Questo è un episodio di natura diversa, soprattutto se a commetterlo sono stati dei giovani ragazzi. Diciamo che la notizia positiva, se vogliamo vedere una notizia positiva e non una tragedia di questo tipo è l'indignazione che c'è stata popolare di tutti quanti sui social e non, della gran parte delle persone che amano gli animali. Sono dei casi isolati, sono dei ragazzi che evidentemente hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di supporto ai servizi sociali ma la gran parte delle persone di Crotone ama gli animali. Grazie.